La Ferrara segreta, di Paolo Sturra Bogadri. Le storie che non sai. Gli intrighi della corte estense, i misteri, i segreti e le magie della città di Ferrara. Come la Marfisa d'Este, che avrebbe ucciso in modo orribile i suoi numerosi amanti. Facendoli, poi cadere nel pozzo a rasoglio, situato come dice la leggenda, nel parco della villa. Ma la sua anima ancora inquieta, se andrebbe in giro di notte, con la sua carrozza. Trenata da cavalli in scheletriti, a cercare nuove vittime. I cavalieri del tempio, e i disegni del loro passaggio nella città. La scoperta di una chiesa temprare a Nizzana. Una chiesa dedicata al culto di Iside a Sant'Egidio. Un tempio pagano, che nei secoli avrebbe perso la sua memoria originale, ma non il suo fascino misterioso. Blizzi segreti dei baracadutisti durante la seconda guerra mondiale. Ed infine un ricordo ad Antonio Sturla. Fu lui infatti, a scoprire e a divulgare la fotogenia, del territorio ferrarese, del delta padano in particolare. Per cui tanti registi, si alternarono, ad utilizzarlo come immenso teatro di posa. Il libro è edito da Faust Edizioni, ed è disponibile in tutte le librerie, oppure si può ordinare su www.faustedizioni.it La letta da guerra mondiale La-l'eonicità La-l'icite La-l'�� preoccupazione Grazie a tutti.